Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tarra che sanciva la riapertura del carcere di Sala Consilina. La presa di posizione a lungo attesa è arrivata e Palazzo Spada ha già concesso la sospensiva senza contraddittorio con l'altra parte, nonostante l'udienza per discutere della stessa sia stata fissata al primo dicembre. Anticipato dunque di 20 giorni, il provvedimento è in attesa della discussione. Si gioca il secondo round su questa vicenda che vede nuovamente penalizzato il Vallo di Diano con la chiusura più volte annunciata e alla fine attuata dell'Istituto Penitenziario. Una chiusura giudicata dal Tarri illegittima, tanto da aver stabilito con una sentenza la necessità della riapertura del carcere. Si fanno sempre più tesi i rapporti tra il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, e il Ministero come era emerso nel corso dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi a Teggiano per la presentazione di un libro sulla situazione penitenziaria italiana e a cui aveva preso parte il sottosegretario alla giustizia, Gennaro Migliore. Inevitabile il riferimento al carcere di Sala Consilina da parte del Sindaco Cavallone presente all'incontro. Sorprendente la risposta di Migliore, che aveva chiuso ogni discussione, criticando l'amministrazione di aver scelto la via del ricorso giurisdizionale invece del confronto politico. Ne parleremo alla fine del secondo grado di giustizia, aveva detto il sottosegretario, attirandosi la risposta al vetriolo del Sindaco Cavallone. Un faccia a faccia che aveva poi fatto maturare nel primo cittadino una chiara presa di posizione. Non accetto nessuna svolta autoritaria, né a destra né a sinistra, aveva commentato Cavallone, annunciando per protesta di votare no al prossimo referendum, nonostante l'evidente posizione del suo partito e la sua partecipazione in prima persona ad eventi tenutisi a Sala Consilina in favore del Sì. È necessario che qualcuno cominci a mostrare i denti, ha aggiunto Cavallone, solo contro tutti, anche i suoi colleghi di partito. L'era del feudalesimo è finita. Il coordinatore del PD valdianese ha cercato di smorzare i toni. Condivido, ha detto Mimmo Cartolano, con il primo cittadino, che l'uscita di Migliore sia stata infelice. Il ricorso era l'ultima razio per salvare il carcere e ben affatto il sindaco a tutelare la sua comunità. Non sono d'accordo però con la sua critica alla svolta autoritaria del partito. Il PD non è solo quello di Migliore, ma anche di De Luca, di Giannuzzi. È un partito aperto a tutti. Avevamo progettato insieme al sindaco altri eventi per il Sì. Io continuerò a farli. Non vedo il combinato disposto tra il carcere e il referendum.